Fermo! Questo sono io dopo il cheat meal fatto post-garra valida per la qualificazione all'Olimpia Terzo posto si vola a Vega Siamo partiti con i fritti ovviamente deliziosi Super cacio e pepe da 300 grammi Mezzo chilo di gelato Arachidi, cioccolato e cremino al pistacchio Cheat meal epico Non ho resistito secondo Biscottino Lotus, nocciola e cremino al pistacchio Check condizione in palestra il giorno dopo dello sgarro Questi sono alcuni degli scatti fatti in palestra Trasformiamoci insieme per il Natural Olympia di Las Vegas sulle mie storie